allora come fa lui perché se non stanno picca si copia la buca andiamo guarda come fai io uno due tre marconi vai tu al lavoro protegge il pedro giri perché ha già tanto sacro però non vai pietaggio è meglio non era pericoloso è tipo con loro dai un attimo gli fai vedere come può essere uno che può rompi i coglioni come fa? devo fare un esempio aspetta posso fare questo ok come fa? prova uno due tre se te vai su come per esempio io parlo luce al braccio te gliel'anticipi però occhio e poi fai avanti no è fai dopo si fa dopo si fa no è meglio non fai prova vai per sei pronti uno due tre è storta no no dritto è storta è storta si chiama apposta con l'olio con un culo sempre ho ripreso due storti adesso il video non va alla bugia so dopo dopo noi posso vedere il video inizia a ragionare e guarda qualche partita dove è tua squadra? ok però guarda tu non in mezzo di tutti i due tu è più verso del Samu adesso no? guarda i vari piloni il pilottuo dentro che sta qua che fa sempre su movimenti guarda qui prova uno tenis è storto scusa 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 teni non mi spieghi come cazzo metti in questo campo poi sta faccio spatti la schiena ci c'è vero sta cucita porcozio ma che bello è ballambato fa un povere ma perché sei fucato te l'hai cucita non lo so dai come fai scuota e tiri su se no ti fa male la schiena dopo ti si chiama come una mozzarella non lo so non lo so non lo so non lo so